Passiamo ora alla fase di validazione, questo è uno strumento che è molto poco conosciuto ma a mio parere straordinariamente efficace e anche molto difficile da usare la prima volta che si utilizza e perché purtroppo non esistono libri, mentre per tutti gli altri schemi che abbiamo visto prima esistono dei libri di testo che spiegano come utilizzarlo e di questo non esiste perché è uno strumento che è stato sviluppato per un workshop che non viene quasi più tenuto che si chiama Lean Startup Machine e sono stato mentor di tutte le sei le edizioni italiane è uno strumento che aiuta a validare un'idea di un prodotto, di un servizio in tempi molto brevi considerate che un workshop di Lean Startup Machine dura circa due giorni e mezzo e io ho visto gruppi, team che non si conoscevano quando partivano col proprio progetto il venerdì sera arrivare la domenica e riuscire a vendere senza avere ancora il prodotto pronto proprio sulla base di un esercizio di validazione, di assunzioni, di bisogni dei clienti che li portava via via a migliorare la propria idea come si utilizza? è uno schema che è diviso in due parti nella parte sinistra è la parte del brainstorming in cui il team di progetto, semplicemente ciascuno, scrive velocemente su un post-it un concetto per ogni area poi vedremo quali sono e le piazza appunto sulle righe che vedete la parte destra è invece quella che guida la parte, l'attività di test come si utilizza la parte sinistra? allora si parte definendo dei customer segment molto precisi come vi ho detto prima, famiglia, con figli, 3, 30, 40 anni, con figli che vanno a scuola eccetera se ne possono definire diverse quindi ciascuno membro del team porta il proprio contributo e poi si definisce qual è il loro problema quindi spesso si parte da un'osservazione della realtà o da un proprio bisogno quindi questa è la prima fase dopodiché il gruppo vota su quale combinazione vuole investigare quindi si prende un post-it e lo si mette sul primo quadratino, sul numero 1 della riga customer e un secondo post-it e lo si mette sulla riga 2 problema, come vedete fino ad ora non si è parlato ancora della soluzione questo per evitare di viziare l'attività di analisi poi si definisce un'assunzione che è quella che fa in modo che quel cliente abbia quel determinato tipo di problema si definisce questa assunzione che viene definita proprio come una frase con cui si dice sì questo cliente ha questo problema se si verifica questa condizione e poi si definisce un criterio di successo poi c'è la parte che è bellissima si chiama get out of the building e quindi proprio di studio fisico sul mercato quindi ai workshop noi mandiamo proprio fisicamente la gente fuori a parlare con le persone che sono in giro, sono per strada a ritorno si ha una fase di learning in cui si scrive proprio quello che si è appreso e una decisione, questa decisione può portare o a cambiare cliente quindi si è verificato che esiste effettivamente quel problema ma non è un problema sentito come reale da una categoria di cliente oppure il cliente è quello giusto ma hanno un problema diverso solamente nel momento in cui ho verificato con un buon criterio di successo ad esempio 7 su 10, 8 su 10 delle persone che vado a intervistare hanno quel tipo di problema allora comincio a testare la soluzione prima all'idea di ipotesi fino ad arrivare a creare quello che si chiama NDP Minimum Viable Product quindi una sorta di artefatto che consente di verificare in tempi molto veloci e con bassissimi investimenti che effettivamente quella soluzione che ho in mente è adatta per andare a risolvere un problema al cliente normalmente sono necessari 4-5 giri di questi esperimenti per arrivare a validare una soluzione e ottenere i primi risultati richiede una forte concentrazione è meglio se io realizzo questa attività in un lasso di tempo molto breve però è estremamente efficace grazie a tutti